presentato a milano l'innovativo manifesto per la cura delle tossicodipendenze modello di cura misto che ha visto insieme per un rinnovamento dei percorsi di cura per la gestione del malato di dipendenza da eroina medici di medicina generale farmacisti farmaco economisti e farmacologi il tema della personalizzazione della cura e del rapporto continuativo medico paziente richiama fortemente il ruolo del medico di medicina generale nei confronti del paziente che fa uso di sostanze e sono gli stessi medici della simg a dirsi disponibili a collaborare con gli specialisti e con i farmacisti in questo nuovo percorso di cura integrato per il pieno reintegro e recupero delle persone con dipendenza da eroina qual è il ruolo giocato dal medico di base e qual è l'opportunità che il medico di base in qualche modo fornisce a questo nuovo percorso di cura possibile incomincio dalla seconda domanda che qual è la novità che apportano i medici di medicina generale a questo progetto direi che il tema essenziale è la continuità di cura per la prima volta in questo settore i medici di medicina generale sono contigui agli specialisti e ai cert per continuare a trattare il soggetto evitando che questo soggetto abbia spostamenti difficoltà obiettive dal punto di vista gestionale e questo apporto della medicina generale riporta peraltro il medico di medicina generale come figura responsabile all'interno di una dinamica di gestione complessiva del paziente in collaborazione assoluta con le altre figure sanitarie nella fattispecie gli specialisti ma anche altre figure sanitarie che volessero collaborare come per esempio i farmacisti. Per quanto riguarda il ruolo del medico è un tema che invece la simge ma la medicina generale ha affrontato da parecchio tempo forse dal primo periodo in cui era comparso il problema dell'eroina su questo paese i medici di medicina generale avevano ricevuto dall'istituzione dal ministero della salute un corso per l'approccio ai pazienti con tossicodipendenze e a quel tempo la tossicodipendenza maggiore era la dipendenza dell'eroina già più di 15 anni fa il concetto era quello di essere sintonici e collaborativi nei confronti dei certi ma c'erano obiettivi difficoltà in relazione ai farmaci in relazione anche alle modalità di prescrizione dei farmaci queste difficoltà sono state oggi superate il medico di famiglia quindi con una visione a tutto tondo può prendersi in carico con maggiore facilità questo paziente che ha sicuramente necessità di essere seguito nel luogo dove abita e con una supervisione da parte dello specialista. Grazie. Grazie.